Ed eccoci qui, appena finita Braga-Roma 0-2, ottima partita d'andata direi, ci consegna una buona prospettiva per la qualificazione, però come dico sempre bisogna sempre giocare le partite. E adesso ci prospetta un ritorno in casa, buona partita, magari non spettacolarissima, però gol di Dzeko e gol di Majoral, quindi i due Bomber vanno a rete, bene così direi, bene anche Villar, bene anche Mancini secondo me, bene un po' tutti, forse potrà fare qualcosina in più sotto porta Mkhitaryan, qualche pallone buttato fuori dallo stadio letteralmente, ma vabbè. Sicuramente la miglior cosa è stato il gol di Dzeko che dopo tutte le turbidudini come si dice, ha trovato il gol, quindi speriamo che adesso sia rinsaldato il tutto, perlomeno fino a fine stagione, e niente. Bene così direi, ottima vittoria oggi, bene un po' tutti, nessuno ho visto giù, come dicevo prima forse Mkhitaryan potrà fare qualcosina in più sotto porta, ma vabbè. Diciamo che si è ritenuto per il girone di ritorno, sì, questo girone di ritorno, con la parita di ritorno, del Braga onestamente, ne ho visto pochissimi tiri, forse il migliore in campo è stato il portiere, che ha fatto qualche parata, qualche uscita. tra l'altro c'era anche uno, Carso Mea, Avata, Coso, Brian White del Barcellona, oppure anche Felipe Melo, scusate ma c'ho un male ola incredibile. E niente, bene così, ottima partita in prospettiva del ritorno, bene Reco, bene anche Pedro, bene anche Coso, Villar, quando è entrato la partita. Forse il negativo di questa partita è che abbiamo una marea di infortuni purtroppo, si è infortunato Cristante, difesa, quindi difesa martoriatissima, ci abbiamo purtroppo. Dopo chi si è infortunato? Ah, i Banez, si è infortunato anche i Banez, quindi in difesa, pratica, giocamo io e qualche amico mio, una col Beneventa, la prossima. Siamo proprio martoriati, già ci manca anche Smolding, Kumbulla, Cavelli e Sartun, quindi siamo davvero in fase di emergenza, in difesa, porca pupazza, c'è sempre qualcosa che inquadri. In quanto a infortuni, sempre record al più possibili. E niente, purtroppo c'è questo, è negativo oggi. Comunque, sono stato ben impressionato dalla Roma quest'oggi, temevo queste partite perché in Europa, come abbiamo visto anche ieri, il Porto letteralmente stracciato da Juve, 2-1. C'è i nostri cari decogentrazione che poi alla fine ti portano alla sconfitta. Quindi, queste in Europa hanno sempre partite molto molto difficili, a mio punto le vedete. Per oggi abbiamo interpretato bene la partita, magari non abbiamo chissà quanto spettacolare, diciamo, però l'importante è essere cinici e vincere le partite, come dico sempre. E niente, bene così, appuntamento alla prossima, che se non sbaglio è contro il Benevento. Partita anche quella tosta perché ci sono un mucchio d'assenze, e quindi è un po' un casino onestamente, però speriamo bene, via. E niente, sempre sempre sempre, forza Roma!